ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video siamo qui con un'altra figure per la serie DC collectibles batman di animated series siamo con una figura della seconda serie animata ovvero the new batman adventure e abbiamo batgirl allora partiamo dalle basi uno dei problemi più grossi di questa figura hanno messo troppe mani c'è pieno di mani intercambiabili e pochi accessori avrebbero potuto aggiungere qualche accessorio in più e meno mani guardate qua quanta roba c'è pieno di mani intercambiabili ve le faccio vedere proprio rapidamente perché sono davvero una miriade quella invece lasciamo la perché un altro problema ce ne sono due a palmo aperto poi questa che è semi chiusa attenzione che c'è anche quest'altra che è sempre semi chiusa ma leggermente più chiusa questa qui è ancora un po più chiusa dell'altra c'è una della logica questa qui invece noi il doppione di un'altra di quelle che vi ho fatto vedere prima solo che sull'altro lato e poi abbiamo questa qui piccolina che invece un senso ce l'ha perché serve per il batarang glielo si infila lì ma non si incastra neanche maledetto eccolo qua quindi qualche mano nel senso ce l'ha ma che senso mettere così tante mani strette in un modo stretta nell'altro piuttosto mettere di meno e fare le cose fatte meglio per esempio guardate qua tutto giallo quando in realtà questo qui è lo spararampino qui doveva essere nero fammi meno mani ma fammele meglio non farmi una cagata del genere con lo spararampino giallo anche perché se me ne hai messo dentro un altro così che è nero la logica è di fargli uniformi uno con l'altro no vabbè comunque andiamo avanti con gli accessori altro spararampino questo qui classico uguale a quello che abbiamo già visto con altre figure che si può aprire si può mettere il fil di ferro solito fra l'effetto quello stia sparando e così via anche se ecco mille mani ma nessuna che poi rega questo è rendiamocene conto il batarang che vi ho già fatto vedere prima eccolo qui minuscolo meno dettagliato di quello di robin infatti non c'è neanche la piega lì in mezzo per l'effetto che si possa chiudere però vabbè comunque un micro batarang ci può stare poi solita basetta con cosa che era lungo di tagliate via turn around del personaggio questa molto figa mi sono sempre piaciute le basette fatte così dalla DC collectibles e poi passiamo allora ho già fatto la recensione del girls night out pack dove era stata realizzata molto molto meglio qui di pecche ne ha parecchie la invece è stata migliorata in tutto e per tutto sia a livello di painting che a livello anche di non lo so c'è qualcosa di diverso anche nei capelli comunque migliorata lo sculpt è lo stesso ma forse il painting e qualche piccola accortezza nei capelli la resa secondo me molto migliore rispetto a questa comunque non è brutta cioè ci assomiglia comunque migliore di quella che hanno fatto nella prima serie animata che fa veramente schifo nonostante sia rarissima però non lo so c'è qualcosa che non mi convince il colore degli occhi bianco così quando doveva essere azzurro qui questo marrone invece che rosso sulla bocca un po di sbavature di nero qui sulla cintura i capelli che sono di una sorta di marrone quando dovrebbero tendere più al rosso arancio non lo so qualcosa non mi convince per fortuna anche quella del girls night out pack che è migliorata comunque andiamo a vedere le articolazioni la testa non si muove ovviamente per colpa dei capelli cioè ha un minimo di mobilità ma proprio di mezzo millimetro e non può neanche guardare in avanti né indietro l'articolazione lì nel collo ci sarebbe non si vede purtroppo in video ma i capelli limitano tutto il mantello qui è in plastica morbidissima quella ottima cosa braccia che si può alzare fin qui rotazione limitata qui dalla parte rigida invece del mantello piegamento al gomito c'è rotazione al gomito mamma mia che paura muoverla rotazione del polso non lo piego assolutamente perché si spacca a guardarlo poi gambe si possono alzare fin qui quindi ottima la spaccata essendo tutto in nero non fa neanche così schifo l'effetto come per le alte poi in avanti è sempre rigida in avanti pochissimo indietro ancora meno piegamento del ginocchio non c'è nessuna rotazione la rotazione c'è qui allo stivale e piegamento al piede che proviamo sull'altro se è sempre così rigido si è super rigido però in commesso c'è anche il piegamento laterale della caviglia che invece è morbido quindi qualche posa leggermente dinamica si può fare quindi allora come figure non è brutta cioè se avete questa non ha senso comprarvi il girls night out pack per averla fatta in modo migliore però secondo me la DC collectibles avrebbe potuto impegnarsi leggermente di più e produrla subito con i colori giusti come hanno fatto dopo purtroppo sappiamo che l'impegno in questa linea è sempre stato un po basso ed è un vero peccato quindi aspetto la vostra opinione qui sotto nei commenti mi raccomando scrivete in tanti così sappiamo se proseguire con questa serie oppure no per questo video è tutto alla prossima e ciao a tutti